Un progetto per far conoscere agli alunni lo stile Liberty nell'isola, il movimento artistico che si è sviluppato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Si intitola Riscopriamo il Liberty in Sicilia e a portarlo avanti alla Scuola Media Garibaldi di Enna, appartenente all'Istituto Comprensivo De Amicis, sono stati i docenti Dario Gitto e Gaetano Alessandra. Gli obiettivi di questo progetto Riscopriamo il Liberty in Sicilia sono appunto quelli di far conoscere questo stile un po' alla comunità siciliana, anche perché i materiali presenti su internet sono limitati, soprattutto per alcune realtà siciliane. Noi in particolare ci siamo concentrati sul territorio di Palermo, capitale del Liberty siciliano, e sul nostro territorio quindi su Enna, poi toccando anche altre realtà come Catania, Messina, Caltanissetta e altre città nella nostra regione. Il progetto ha avuto una fase iniziale di studio del movimento artistico seguita da visite guidate a Enna e Palermo. Nella terza fase gli studenti guidati dai docenti si sono cimentati nella realizzazione di una pubblicazione e di un cortometraggio con protagonisti gli stessi alunni e il contributo video di Gaetano Volante. Abbiamo voluto realizzare un documentario grazie appunto all'esposizione dei nostri alunni di prima, seconda e terza e poi abbiamo voluto realizzare una pubblicazione che presto appunto faremo avere alle associazioni che ci hanno collaborato, ai genitori e soprattutto alla regione siciliana che ci ha finanziato appunto il progetto. Lo studio dell'arte e della storia deve essere orientato proprio a uno studio attivo dei monumenti che ci sono all'interno del nostro territorio. Io è da anni che mi interesso in questa scuola col tramite il progetto Visitenna dell'analisi dell'aspetto storico e artistico del nostro territorio e qui è stato un ampliamento di questo progetto allargato a Liberty con un'analisi anche dei monumenti dell'archivio storico e quindi un coinvolgimento diretto degli alunni attraverso delle uscite didattiche. Come per esempio ne abbiamo organizzato una a Palermo finanziata direttamente da questo progetto, abbiamo visionato una bellissima mostra Liberty a Palazzo Sant'Elia, il Teatro Massimo di Palermo che è il teatro lirico italiano più importante e il terzo d'Europa per grandezza. Quindi in questa scuola facciamo sempre iniziative orientate al territorio. Volevo ringraziare il dirigente scolastico Filippo Gervasi che ci ha permesso di fare questo progetto, la collaboratrice Stefania Mancuso e anche il DSGA Aurora Algozzino e varie associazioni culturali che hanno collaborato, come la società Tantelighieri Comitato di Enna, Marilissimo Milano della società Eventi Palazzo Militello e anche il Club Unesco di Enna, io sono anche socio del Club Unesco di Enna e anche l'ANMIG di Enna che si interessa dello studio dei monumenti del periodo delle guerre mondiali a Enna.